Ciao, sono Graziella Bertozzi e mi occupo di nutrizione da moltissimi anni e di stile di vita con un programma che ho chiamato protocollo alimentare e in più da molti anni, più di 10, organizzo dei seminari di benessere e di ricerca interiore di evoluzione, così nel deserto, a Capodanno e anche le Maldive. Quest'anno ho una proposta speciale per te, una proposta che riguarda una vacanza di sette giorni in barcavela, una vacanza detox dove sarà possibile disintossicarsi grazie ai benefici che ti porta il mare, il sole, il vento eccetera, ma anche a un corso di cucina e quindi ha un elenco anche di ricette e di un programma particolare personalizzato che poi addirittura puoi portarti a casa. Quindi un'esperienza straordinaria, in questo senso potrai conoscere meglio quali sono anche i tuoi bisogni, possiamo fare un incontro preliminare addirittura prima via Skype, c'è la possibilità appunto di lavorare insieme per vedere quali sono le cose che ti fanno bene e quelle invece che ti tolgono energia. Questa vacanza è all'insegna del benessere ma anche supportata, dico, dall'esperienza, dalla grandissima esperienza che ho io in barcavela, che da sempre vado in barcavela e ho la passione della barcavela e anche della parte che riguarda l'aspetto alimentare perché appunto sono 25 anni che pratico il protocollo alimentare. La barca è una barca straordinaria, di grande comodità, a otto posti, lo skipper è di provatissima esperienza, è un mio amico da tantissimi anni, quindi è una vacanza in cui ci divertiremo, in cui faremo delle cose meravigliose che ti porterai nel cuore per tutta la vita. Ciao!